Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di XMX11 ragazzi vi ricordo che per supportarmi in maniera totalmente gratuita codice creatore XEmanuele97 detto ciò andiamo a vedere che cosa è uscito oggi ragazzi innanzitutto queste mot last forever 500 VBAC rara del capitolo 2 stagione 4 poi andiamo avanti è uscito Rolly ragazzi un emotto che aspettano un po' tutti capitolo 2 stagione 4 500 VBAC per averla ovviamente c'è il copyright andiamo avanti ragazzi è uscito leader della squadra Mecha questa skin epica delle parole di 1600 VBAC della stagione 9 fa parte del set duello finale ovviamente con i suoi due stili andiamo avanti ragazzi e sono uscite distruttrici combinate questo piccone a due del duello finale stagione 9 piccone raro del valore di 800 VBAC andando avanti ragazzi c'è questa copertura rara squadra Mecha stagione 9 animata 500 VBAC per averla poi ragazzi andiamo avanti abbiamo destino di terrore fa parte del seto oscuramento del capitolo 2 stagione 4 1800 VBAC per avere la skin con il suo backpack con il doppio piccone epico 1800 VBAC andiamo avanti ragazzi abbiamo omen di terrore questa skin del capitolo 2 stagione 4 sempre sette oscuramento 1500 VBAC epica per averla andiamola a vedere poi ragazzi andando avanti c'è l'ascia dell'oracolo del terrore 1200 VBAC fa parte del set oscuramento capitolo 2 stagione 4 sentiamo il sound andando avanti ragazzi abbiamo infinito questa skin molto molto simpatica della stagione 10 viandante delle stelle epica 1500 VBAC per averla con il suo backpack quasi quasi trasparente ragazzi andando avanti ragazzi c'è attacco stellare questo piccone della stagione 10 viandante delle stelle 800 VBAC raro sentiamo il sound molto molto simpatico il sound ragazzi poi andando avanti abbiamo 0 eterno come copertura sempre del punto 0 stagione 10 animata ragazzi poi andando avanti c'è cromo questa skin della stagione 4 acciaio massiccio 1200 VBAC rara per averla nel proprio armadietto di gioco poi abbiamo richiamo da battaglia della stagione 5 200 VBAC non comune andando avanti ragazzi abbiamo mastino 1200 VBAC rara della stagione 1 per i più try harder power ragazzi poi abbiamo ordinaria amministrazione 500 VBAC rara queste moto per averla parte del set duello finale stagione 9 andando avanti ragazzi abbiamo un matcha fan 100 VBAC non comune per queste moto poi abbiamo squadra mostro sempre 100 VBAC per averla poi ragazzi andando avanti c'è ancora canta insieme il bundle del buon Kratos anche acquistabile singolarmente ancora il pacchetto leggende gelate e il pacchetto di Black Panther vi ricordo ragazzi che per supportarmi in maniera totalmente gratuita codice creatore x Emanuele97 e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi ciao